Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il classico appuntamento del cosa aspettarci in questo caso dalla 24esima giornata di Serie B giornata importantissima con tanti match in miniature avete visto Genoa Palermo e Regina Pisa però come sempre, come gli scorsi appuntamenti andremo a fare una piccola analisi su tutte le partite andiamo un attimo a capire che tipo di partita dobbiamo aspettarci e che situazione stanno vivendo le squadre che si andranno a incrociare in questo turno che parte venerdì ore 20.30 e si chiude la domenica come sempre ore 16.15 mi raccomando però prima di partire col video vi devo chiedere un pollice nel suo video tantissimi mi piace qua sotto, 30, 40 mi piace qua sotto un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi mi raccomando iscrivetevi non vi costa assolutamente nulla questo è un canale che parla solo ed esclusivamente di Serie B partiamo subito ma partiamo anche col botto nel senso perché la gara che apre questo turno è Genoa Palermo una gara importantissima perché il Genoa deve dare sicuramente una risposta dopo la sconfitta brutta e netta e meritata quella contro il Parma per 2-0 e deve fare di fronte ai propri tifosi ma non sarà facile perché di fronte trovo una squadra che arriva da 3 vittorie consecutive da più di 5 risultati utili consecutivi a 34 punti si passano solo 6 punti Genoa Palermo e questa è un'occasione importantissima per capire le ambizioni del Palermo perché se la squadra di Corini vince va a quota 37 punti andrebbe a meno 3 dal Genoa e potenzialmente si potrebbe trovare massimo ragazzi dai 3 ai 5 punti di meno rispetto al secondo posto perché poi bisognerebbe guardare quanto se la Regina vince la sua partita ma comunque è una ghiottissima occasione per il Palermo per cercare di entrare nella vera e propria lotta al secondo posto invece per il Genoa è una cosa importante per rifarsi per farsi valere, per dire che il Genoa c'è e vivo e che questo pareggio per 0-0 e questa sconfitta per 2-0 contro il Parma sono stati due eventi sfortunati ma comunque il lavoro di Girardino sta proseguendo nei migliori dei modi e questa è una grande occasione per farlo quindi subito un big match un'altra partita sarà su Tirol Como sabato ore 14 partita importantissima nel senso che capiamo un po' questo su Tirol veramente fino a quanto può spingersi perché arriva da 4 vittorie consecutive 38 punti in classifica dove se vincere andrebbe a quota 41 e potrebbe addirittura ritrovarsi a ridosso della seconda posizione se non essere secondo in caso che magari Regina e Genoa perdono il loro vinco nel suo Tirol potrebbe ritrovarsi clamorosamente secondo alla fine di questa giornata quindi una gara importantissima per il suo Tirol che deve comunque affrontare con la stessa determinazione e consapevolezza con cui ha affrontato le ultime gare perché comunque il Como è una squadra che ha bisogno di punti ha bisogno di punti di salvezza e perché il Como è il quindicesimo a quota 26 punti viene da una sconfitta contro la capolista sicuramente dovrà rifarsi e può essere una partita diciamo trappola per il suo Tirol che se vuole veramente sognare e col proprio allenatore sognare con Pisoli la Serie A deve fare anche questo step e vincere queste partite che possono sembrare magari facili sulla carta perché il suo Tirol sta facendo grandi cose il Como un po' meno ma sappiamo tutti la qualità del Como Regina Pisa altro match di sabato alle ore 14 match ragazzi importantissimo sono molto curioso di vedere che tipo di Regina vedrò nel senso a livello caratteriale umano perché viene da due sconfitte consecutive tre sconfitte nelle ultime quattro solo tre punti raccolti e quindi è una Regina che non vive un bellissimo momento soprattutto anche in casa deve rifarsi dopo la sconfitta di due settimane fa e ha una grande occasione per farlo però anche qui affronto una squadra che non sta vivendo il suo miglior momento il Pisa che viene da due punti in quattro partite ha perso anche loro l'ultima gara e quindi è una partita tra chi si deve riscattare da una parte Regina da un'altra parte il Pisa ci sono in palio punti importantissimi il Pisa per i playoff la Regina per la lotta al secondo posto e quindi può uscire veramente un match importante ma soprattutto delicato Brescia-Modena altro match di sabato alle ore 14 sconto diretto per la salvezza no perché il Modena comunque ha quota 31 punti arriva da tre vittorie nelle ultime cinque sono nove punti fatti per l'appunto nelle ultime cinque perché ci sono anche due sconfitte e ragazzi un Modena che sicuramente è in linea con le aspettative sta facendo il suo percorso secondo me l'obiettivo di questa stagione è sicuramente cercare di raggiungere il primo possibile una quota punti importante per ottenere la salvezza in questo momento è in linea con le aspettative può sognare anche un posto nei playoff perché andrà perché comunque solo a meno due dall'ottavo posto dall'altra parte troviamo un Brescia completamente nuovo sarà il primo Brescia di Davide Possanzini raccoglie una squadra che arriva da un punto nell'ultimo cinque quattro sconfitte consecutive l'ultima pesantissima per 4-0 contro il Perugia c'è tanto lavoro da fare non sarei sorpreso se il Brescia dovesse fare una partita proprio di orgoglio di carattere e magari riuscendo anche a portare a casa un risultato positivo perché può succedere quando c'è uno scossone così soprattutto quando arriva un nuovo allenatore e poi soprattutto per il momento che vi potrebbe potrebbe toccare quelle corde giuste a livello morale che possono far rendere la squadra ragazzi in un modo migliore rispetto alle ultime partite Frosinone e Cittadella la capolista affronta il Cittadella sabato alle ore 14 il Frosinone dobbiamo capire un po' se continuerà questa marcia fino a questo momento praticamente perfetta 11 punti in più sulla seconda 12 punti in più rispetto alla terza dovesse vincere anche contro il Cittadella che comunque non è facile perché Cittadella è ripresa e ha bisogno di punti salvezza però io credo che il Frosinone in casa abbia una grande chance per continuare per mettere la sesta vittoria consecutiva all'attivo e soprattutto per cercare ancora di distaccare le squadre che provano a inseguirla ma che in questo momento non ci sono riuscite andiamo avanti con Cagliari Benevento Cagliari Benevento ragazzi un match molto importante e delicato perché si affronta un Benevento nuovo sarà il primo Benevento qui di Roberto Stellone giocherà una partita difficilissima in trasferta vediamo come verrà preparata vediamo cosa porterà che idee nuove porterà Roberto Stellone a Benevento secondo me farà molto bene i punti che dovrà ottenere Benevento per salvarsi con Stellone secondo me possono arrivare magari non subito contro il Cagliari perché affronta una squadra molto forte gioca in casa deve rifarsi dopo la sconfitta brutta contro contro ragazzi il Modena al Braille per 2-0 soprattutto il Cagliari deve mettere punti importanti per consolidarsi piano piano in un posto nei playoff però è una gara importante perché il Benevento ha assolutamente bisogno di fare punti in chiave salvezza e quando arrivi a questo punto il campionato con questo tipo di classifica come c'era il Benevento penultimo ragazzi a quota 23 punti si è obbligato a fare punti su qualsiasi campo Venezia-Spal altro match l'ultimo match del sabato alle ore 14 abbiamo un Venezia che lavora lavora bene secondo me Banoli sta facendo un lavoro per il momento sufficiente importantissima l'ultima vittoria quella esterna a Benevento per 2-1 ha dato morale il Venezia è un grandissimo attaccante che poi è un Paolo che se metti nelle condizioni di servire può darti tante gioie con tanti gol e il Venezia è obbligato a fare punti così come il Benevento così come la Spal è una squadra obbligata a fare punti per cercare di ottenere questi punti salvezza sarà uno sconto diretto importantissimo in chiave salvezza vediamo cosa ne uscirà fuori per me Venezia è più avanti nel percorso rispetto alla Spal di De Rossi e ho visto per appunto Rajan Engolan molto in forma capace determinato e che vuole fare la differenza Ascoli-Perugia primo match di sabato alle ore 16.15 match importantissimo scontro salvezza assolutamente importante capiamo quanto il Perugia è veramente in crescita quanto può dare questo Perugia ancora a questo campionato potrebbe raccogliere la terza vittoria consecutiva però di fronte ragazzi a un Ascoli che comunque viene da un momento tragico 4 sconfitte nell'ultimo 5 un solo punto raccolto sarà la prima di Breda da nuovo allenatore per l'Ascoli vorrà far bene anche qui magari verranno toccate certe corde a livello morale di orgoglio e quindi l'Ascoli potrebbe fare una buona partita quantomeno sotto l'aspetto dell'atteggiamento però il Perugia è in crescita sta bene fisicamente gioca bene a calcio sa fare punti e Castori in questo momento è l'arma in più di questa squadra chiudendo ragazzi con Ternana Parma e Bari Cosenza su Bari Cosenza è un match tra una squadra che deve assolutamente trentare di fare punti per rimanere aggrappata alla speranza della lotta a promozione diretta ovvero il secondo posto il Bari ha 36 punti importante l'ultima vittoria quella a Ferrara per 4 a 3 nonostante il blackout degli ultimi minuti però comunque il Bari può confidare in un attaccante straordinario come Wanit Kedira affronterà il Cosenza a fanaglione di coda a quota 22 punti però da non sottovalutare perché in un buon momento 4 punti nelle ultime 2 5 punti nelle ultime 4 e quindi il Cosenza piano piano sta cercando di costruire un mattoncino alla volta i suoi punti per cercare magari a giugno di giocarsi poi i play out Ternana Parma match importantissimo per la lotta ai play off vediamo questo Parma se da per una volta a continuità una vittoria straordinaria quella contro il Giorno per 2 a 0 ha una coesione importante si deve riconfermare però dovrà farlo contro una Ternana che secondo me è leggermente in crescita sto iniziando piano piano a vedere la vera Ternana di Lucarelli e sarà un bel match aperto sicuramente molto combattuto con due natori validi con idee importanti con due squadre forti con giocatori tecnici che si affronteranno e può venire fuori veramente una bella partita importantissima in chiave play off fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento pollicione sul video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi grazie Grazie.